Spererei di no, ma a tema un po' proprio di sì. Credo sia arrivato il suo momento per una grande squadra. Sì, secondo me sarà l'ultima la partita di Lanzari. Siamo di no, perché credo che molto dipenda anche da come va la partita di domenica. Secondo me non sarà l'ultima, perché io lo vedo anche l'anno prossimo alla Spali, in bianca-azura. Secondo me rimane, spero o meno che rimanga. Secondo me Lanzari rimarrà ancora la Spali per migliorarsi. Secondo me non ci sono poi tutte queste squadre che offrono un sacco di soldi perché vada via. Secondo me Lanzari giocherà l'ultima partita con la Spali domenica prossima. Non sarà l'ultima, perché adesso forse i complici di infortunio, secondo me alla fine resterà, almeno per un'altra stagione. Secondo me andrà via, ha messo molto in mostra nelle varie partite. Secondo me Lanzari verrà venduto alla fine di quest'anno. Lo vedrei bene in una squadra come la Juve, ho bisogno di esterni come Emanuele, con le sue qualità. Torino, Fiorentina potrebbero essere... Lo vedrei bene in una squadra più forte della Spali, ma ancora non di prima fascia. Lo vedrei bene in squadra come il Zenua, come la Sampdoria, che usano parecchi giovani. Potrebbe essere una squadra di mezza classifica che gioca a 3-5-2 come il Toro di Mazzari.